Una sola vittoria nelle ultime 5 partite, il Mariano deve invertire la rotta e ritrovare la continuità di inizio campionato. Non sarà semplice perché incontrerà un lazzate reduce da una convincente prova sul piano del gioco contro il Visnova capolista. Cari amici di 3 di recupero in diretta dal Gilberto Citterio di Mariano. Un buon pomeriggio da Gabriele Calì. E Niccolò Tettamanti. Sulla carta dà ragione al Mariano, dà come favorita la squadra di casa. L'lazzate però che abbiamo visto la scorsa. Attenzione al pallone! L'errore del Mariano ci mette una pezza Sanso. Intercetta Campi ma solo per un attimo perché c'è Moretti che prova ad andare al cross. Dall'altra parte Cotugno! Spreca e manda alto. Qui perde il pallone inlazzato e può andare con Ragusa! Un gol meraviglioso! Con Ragusa! Il destro di Ragusa non perdona! E fa 1-0! E' bravissimo la formazione del Mariano ancora una volta. Recuperare palla sulla tre quarti. Ragusa. Tentativo fulminio che non lascia scampo a Peverelli. E' 1-0 sul tabellino per i padroni di casa. Che allarga Moretti. Arriva il cross di prima. La rovesciata di Cotugno! Dimmi che non è vero Nico! Dimmi che non è vero! Dimmi che non è vero! Dimmi che non è vero! Gabri Cotugno ci lascia pietrificati con una rovesciata senza precedenti. Il livello non è regionale! Il livello è nazionale! Abbiamo visto due grandi gol! Laurato sul punto di battuta. Il pallone in mezzo. Cotugno riesce ad allungare di testa Valtulini. Sansò però... Cerca l'altro Sansò che può liberare il destro! Il 2-1 del Mariano! Sull'asse Andrea Sansò, Marco Sansò. Ma dove l'ha messa Gabri? Un altro bellissimo gol. Mariano che torna in vantaggio. Ai danni dell'alzate. Sansò che raccoglie il cross. E con il destro infila sotto al 7. 2-1. Campi che di testa serve Sansò. Ha chiuso però male D'Aquino. E allora Campi! Campi! Lo scavetto su Peverelli! Pallone fuori. La toccata di testa Peverelli. E allora ha laurato il retropassaggio. Totalmente fuori misura. Allora Campi! Prova a sorprendere Peverelli! Campi! Un gol del numero 10! Da numero 10! Peverelli sorpreso. E Mariano che va sul 3-1. Con il suo capitano! A cosa stiamo assistendo Gabri? A cosa stiamo assistendo? Qua! Palla da centrocampo. Campi! Prova a sorprendere Peverelli che non è in buona posizione. E infatti la palla che si insacca in rete. Il sinistro di Rappone di testa! Cotugno pallone che sorvola la traversa. Mauri. C'è largo Tripodi. La sovrapposizione di Moretti. Tripodi però preferisce andare da solo! La conclusione! Il tocco di Rappone! Il pallone! Il pallone! Il pallone è entrato! Il pallone è entrato! Il pallone è entrato! E c'è il 3-2. Delle lazzate, le proteste. Da una parte e dall'altra. Della Mura. Supera tre uomini. Della Mura! Della Mura! La conclusione! Peverelli! Si distende. Ma c'è ancora il Mariano. Il cross. Campi! Di testa! Peverelli! Ma non c'è più tempo! Il Mariano conquista tre punti! Al Gilberto Citterio!